Non posso mai morire sempre perché questi non doggiano? C'è un abbonamento proprio a farmi morire No Eh porca troia Dai riesco a fare una pezzottata Sperando che Goku non ci vengano in mente di fare una bella add di 12 Potrei insultarlo se no Come potrei insultare questi arbo? Orribili Non so quanto sia meglio Gogeta in turno o meglio Gogeta in turno? Oh facciamo così Vuoi non tirarmi special subito? Ma non me la dita la special madonna Vegeta Io spero ti esploda Bulma ti giuro Vediamo Incredibile Uno scam clamoroso Qua se mi tira special post tutte queste non prendo tantissimo Fortunatamente vedete è un cecchino a tirarmi le special su quelli che mi shot E poi di base basta toggiare Non lo prendi il colpo Bene Ma non vedete dove mi dita la special Ma vediamo Vediamo un pochettino dove me la dita sta special E poi c'è il drop una def sta special Non credo Non me l'ha tirata la special incredibile Ciao Goku God Siamo di nuovo io e te Di nuovo L'ennesima volta Però io farò così Io ti vorrei tenere in turnazione Però mi hai fatto già bestemmiare Quindi mo ti metto a ruotare Eh Non te la meriti la tornazione Mi hai fatto morire Basta via Vediamo Di base realmente è semplice Cioè Quanto c'ha di differenza special Per di carica un milione e sette il boss finale Però No cooldown di 10 Che cavolo vuol dire Tassi dopo 10 attacchi di non aspetto Poi c'è scritto cooldown di 10 C'è un po' di DR Ma nulla di più Basta che ci vai pure Di mono int Serve giusto stare alla prima fase Poi lo shot Perché la dock è una cosa gioca Vabbè c'ho altri gaccio Oh il god Perché il god fisico adesso Si prenderà una bella special E non la dogerà E io bestemmerò tutti i santi Uno special ogni 10 Minimo Aspetta che ora tra poco arriva Intro Uno special Intro Oggi il god Mi sta facendo in bestia Ah Vegeta ha detto No Ma forse me l'ha tirato su god Non ci ho manco fatto caso Allora Facciamo così Facciamo questo Facciamo No Troppe orb Così Teniamoci l'arma finale Alla fine Bravo Vegeta Mamma mia Quando ti voglio bene Quando fai così Ti fa special Dai ci attaccano un po' Come prima Al prossimo turno Questo lo dici tu Questo lo dice la wiki Ma non con me Con me Se il boss ti vuole tirare special Per ucciderti Te la fa La prima cosa di stavendo È che dura un bel po' Però una volta che trasformi con Gera Gli tiri in active Perché gli togli almeno 3 barre vita Tipo Non è che te dura molto Il Brove Gera Poi tiri in active Anche di quelli Int No se ripeto Solo la prima fase È un po' Stallata E poi Goku Ancora non l'ho controllato Quello di dopo Uno spoiler Quante fasi c'ha Eh la madonna C'ha Quattro fasi Che due palle Mi dovete A studiare Quello del boss Dopo Uno Due Tre My god Sei tutti noi Il boss Tuttissimo Il Carried Io direi più cavoli Di fratale Ci sono altre missioni Oltre a completare una volta Sì farlo con Mono Extreme L'ultimo stage Quindi AGL Tech STL Stato Guarda ma rimane con Uno di vita Vabbè ci stanno I trio alla fine Ok entriamo nella fase Dopo con Gokera Che si può trasformare Mi pare Giusto Che turno è questa Tre Quattro King ti ho risposto E me l'hai fatta tre volte Sta domanda Quante volte ti devo rispondere Non ascolti Una special di addio Per non dimenticare Per fortuna che la panca Ok Fase Tech Con Caulifla La regina Eh abbiamo pure Godoku Mannaggia a lui Che ci farà morire Abbiamo pure la trasformazione Di meno Di meno Allora Godoku Carissimo Godoku Che vogliamo fare? Posso provare una no item La no item La faccio easy Con sto team Però Godoku Cosa vogliamo fare? Andre Tu stai rovinato Vabbè Le Godoku Non serve a nulla Oddio Non è che questo Si buffa l'attacco No C'è troppo alla def Ok Vabbè GG ragazzi Per Goku E Vegeta Bluezza È meglio Full add E il resto Evo Full ev E il resto Add Full add E il resto Crit Perché Eva Che schifo Evo Ma poi Non è che c'è Chissà quanto Crit C'è 30% Di un Deci arriva Massimo 35% Add E il resto Crit Di quale Comunque Vegeta Stiamo parlando Ah Il nuovo Eeeh Boh Per me Comunque Vuoi fare add Crit Eh ma Si ok C'è il garantito Però A volte a me è scammato E non riesce a raggiungere La 24 Dici come O delle orbe O malamente Eeeh Vabbè Vuoi fare add Io tipo Vabbè Io ce l'ho Crit Perché comunque La vecchia build Mezzo crit Mezzo add Ce l'ho Però vuotarsi che le orbe Te girano male Tu dici C'è il change orb Eh frate Mi è capitato prima Che cazzo Dio Sto sfigato Un caso unico Si Un dodge Due dodge Tre dodge Incredibile Come dodge Ha i pugni Oddio 20.000 Però non è che Gli avrebbe fatto tantissimo Allora Goku Super Saiyan 3 È pronto Per tirare la bomba a mano Sei pronto Goku Super Saiyan 3 Siamo tutti con te Bomba a mano Is ready Indifferente Non ci prendiamo nemmeno l'ultimo colpo lì Andiamo Vediamo se mi fa una spera su God Dovrei prendere un minimo di danno Perché c'è troppa la def E comunque ne tira di special Però vediamo quanto fa Ne ha fatti eh Ne ha fatti Non essendo nemmeno colore di vantaggio Come special ha tirato O due o tre Speriamo che sia giocabile Beast Ma Guarda Il power level Sarà sicuramente Delle LR Che sono uscite adesso Quindi È difficile Che non sia giocabile Anzi È più semplice dire Speriamo che non power creep Il gioco Mettiamola così Quando c'ho ancora di vita Ciao Buonasera Buonasera Va bene Gogeta Il tuo lavoro lo fai bene 17 milioni Vabbè Ci sta Una special Simpatica Simpaticissima E mo Qua Vegeta Arrivederci È stato un piacere Capo Alla prossima Qua addirittura Posso pure mettere Goku prima Tanto mi targetta Gogeta Facciamo così Ciao Vinci Ciao Ci vediamo Un prossimo mondo Una prossima vita Evento abbastanza tranquillo Li Target Attivato E vegeta È esploso No item È il minimo È anche il minimo È anche sprecato Meglio fare Nel doccanè Mentre l'item No No Mannaggia La trovo Devo tirare Una special Con Gogeta Niente Però potrebbe Rimanere Con uno Di vita Eh Rip Vabbè Un saluto Al vegetone Ci vediamo Una prossima Vita Capo Capo